Proseguono le riflessioni in Casa Pescara per impostare la prossima stagione e allestire una squadra capace di competere per tornare subito in Serie B. Circa il nome del direttore sportivo in questo momento sembrano in calo le chance di Sandro Federico in scadenza al Teramo che non ha presentato alcuna proposta di rinnovo. Resta pienamente in elizza il nome di Giuseppe Manari che va precisato al momento non ancora all'abilitazione per ricoprire ufficialmente la carica di DS. Attualmente è in carica al Novara dove è direttore tecnico ma in uscita con l'avvento della nuova proprietà Pavanati al posto di Rullo. L'abilitazione però potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Resta in piedi anche l'ipotesi Luca Matteassi nonostante le smentite del diretto interessato. Le cose potrebbero cambiare ora che la stagione degli Emiliani è finita con la clamorosa eliminazione dai playoff subita dall'Albino Leffe e soprattutto col cambio della proprietà del Modena Calcio ufficializzato stamani. Matteassi è destinato ad andare via e potrebbe essere un profilo dal quale ripartire per il Pescara. Circa il nuovo allenatore sempre i playoff di Serie C consegnano un altro potenziale obiettivo. Gaetano Auteri, tecnico esperto e quotato della Serie C e molto apprezzato in ambito biancazzurro. Auteri che in passato ha allenato tra le altre Latina e Nocerina è stato eliminato col suo Bari dalla Feral Pisalò. Ha ancora un anno di contratto con i pugliesi ma la sensazione è che dopo la mancata promozione possa non essere confermato da un Bari che potrebbe optare per un Repuristi. Sul taccuino delle presidente Sebastiani restano i nomi interni di Grassadogna, difficile visto che è praticamente scontata la mancata conferma come DS di Bocchetti, e Iervese che con la sua squadra si giocherà la Supercoppa di Primavera 2 contro il Verona nei prossimi giorni. Resta non di poco conto anche la questione del potenziamento della società, argomento ancora più sensibile dopo una retrocessione e in un campionato che non restituisce risorse paragonabili a quelle della cadetteria. Giorni fa il presidente del Pineto Silvio Brocco, che ha un legame personale solido con Sebastiani, ha aperto ad un suo coinvolgimento. Chiaramente con il presidente Sebastiani, con Daniele, grande amico eccetera, se si può fare qualcosa, se posso essere utile per riprimeggiare di nuovo, riportare il Pescara nella Serie B, sono pronto per dare il mio aiuto. Ora dalla Svizzera arriva una notizia, questo pomeriggio è diventata ufficiale la cessione delle quote di maggioranza, 60% del Lugano Calcio da parte di Angelo Renzetti, il quale in passato ha sempre avuto il sogno di poter anche egli fare qualcosa per aiutare il Pescara, al quale è molto legato e del quale è stato presidente per pochi mesi. Non ci sono stati contatti con Sebastiani, ma per il futuro non sono da escludere, dopo che l'operazione di uscita dal Lugano avrà completato tutto l'iter formale.